Degli scavi ad una mostra nella Galleria Ivan Bruschi in piazza San Francesco ad Arezzo, protagonista il sito archeologico del Colle del Pionta. La Fondazione Ivan Bruschi ha voluto accogliere questa possibilità di rendere pubblico un evento importante, una ricerca che ha messo a fuoco la vecchia situazione del Pionta, l'antichissima situazione del Pionta, facendo capire come proprio da lì parte una matrice importantissima per la cultura storica e artistica della città. La Fondazione si pone come ospite con la sua galleria, proponendo alla città un percorso che per ora è virtuale, ma che ha delle basi solide nelle ricerche che sono state condotte e quindi per la prima volta ci sarà una cronaca in diretta di un'importantissima scoperta. La mostra Sacre Macerie Arezzo Torna al Pionta sarà inaugurata il primo dicembre. L'esposizione renderà così fruibili a tutti le meraviglie che stanno riemergendo dal Colle del Pionta, all'interno dell'esposizione pannelli e video. Abbiamo compiuto proprio ora il secondo anno di scavo e diciamo che siamo riusciti, grazie anche alle indagini georada precedentemente effettuate con l'Università di Southampton, abbiamo potuto identificare le fondamenta del Duomo Vecchio e il Sepolcro di San Donato. Quindi è stato un momento, diciamo una tappa importantissima che serve da base per andare avanti nello scavo e ricostruire tutta la cittadella mediovale del Pionta.